Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo con un video che era da quando era finito il campionato che volevo fare, cioè un video dedicato a Cristian Maggio e al suo addio al Napoli dopo ben dieci stagioni. Come tutti sappiamo la scorsa settimana c'è stato l'annuncio di Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli e quindi non ho avuto tempo per poter fare questo video. E oggi andremo a ringraziare Maggio per tutto quello che ha dato al Napoli in questi dieci anni e andremo anche a ripercorrere tutto il percorso di Cristian Maggio in maglia azzurra in questi dieci anni. Tutti noi tifosi del Napoli dobbiamo essere davvero molto riconoscenti nei confronti di Cristian Maggio perché ha dimostrato davvero un grandissimo attaccamento alla maglia azzurra e allo stesso tempo anche una grandissima professionalità perché negli ultimi tre anni con Sarri ha giocato davvero pochissimo quelle poche volte che ha giocato ha sempre dato il massimo e giocando molto bene non dimostrando di essere un calciatore ben oltre i 30 anni e allo stesso tempo non dimostrando di essere un calciatore che stia giocando molto poco e poi nonostante le sue pochissime presenze in questi ultimi tre anni davvero mai una parola fuori posto. Maggio è stato davvero un vero e proprio simbolo ed un esempio per i suoi compagni e diciamo tra i protagonisti assoluti della crescita e della rinascita del Napoli in questi ultimi anni. Maggio come sappiamo è arrivato al Napoli nell'estate del 2008 fu acquistato dalla Sampdoria con 8 milioni di euro allora quando venne c'era Eddie Reia come allenatore del Napoli e Maggio che venne al Napoli che si preparava a disputare la sua seconda stagione in Serie A dopo la promozione di due anni prima Maggio Correa giocava in un 3-5-2 e giocava come esterno nel centrocampo a 5 perché ricordiamo che Maggio nasce come esterno di centrocampo e poi successivamente con Benitez ha cominciato a fare il terzino destro comunque il suo esordio lo fa proprio in una competizione europea cioè nel preliminare di Europa League contro il Pagno Gnos una squadra greca Napoli che poi passò quel turno e segnò il suo primo gol in maglia azzurra alla seconda giornata di campionato di quella stessa stagione contro la Fiorentina e fu un gol davvero molto importante il gol del 2-1 che ci permise quindi di vincere quella partita poi ricordiamo quella stagione non fu un granché dal punto di vista dei risultati per il Napoli fu anche esonerato Reia con l'arrivo di Donadoni Maggio che poi inoltre in quella stagione si ruppe il legamento crociato e quindi la sua stagione finì prima del previsto e il Napoli concluse quella stagione al dodicesimo posto quindi sicuramente delle dieci stagioni di Cristian Maggio al Napoli proprio la prima è stata la meno entusiasmante soprattutto dal punto di vista dei risultati raggiunti dal Napoli poi la stagione successiva diciamo è quella dove Maggio segna più gol decisivi ovvero la stagione 2009-2010 cominciata con Donadoni che però poi viene esonerato dopo sette giornate e poi ricordiamo che ci fu l'arrivo di Walter Mazzarri che diede la svolta definitiva al Napoli Mazzarri che portò il Napoli dall'essere diciamo tra gli ultimi posti in classifica dopo non aver fatto bene nelle prime sette giornate di campionato alla fine Mazzarri portò il Napoli a qualificarsi per l'Europa League in quella stagione finendo al sesto posto in classifica ma Maggio in quella stagione davvero segnò dei gol importantissimi segnò un gol proprio nella prima partita di Mazzarri contro il Bologna al novantesimo segnando il gol del 2-1 definitivo poi nella partita successiva sempre a pochi minuti dalla fine segna il gol dell'1-0 contro la Fiorentina e in quella stessa stagione ricordiamo Livorno-Napoli Maggio segna il gol dell'1-0 con un tiro al volo dalla grande distanza nel sette davvero un gol pazzesco ed incredibile che sicuramente è il più bel gol segnato da Cristian Maggio in maglia azzurra gol che ricordiamo venne paragonato ad un gol che fece Van Basten con la nazionale olandese ai mondiali poi la stagione successiva ovviamente gioca anche l'Europa League con il Napoli esordisce in Europa League ricordiamo che aveva sì già giocato nelle competizioni europee con il Napoli ma si trattava soltanto di preliminari mentre ora davvero diciamo ha esordito proprio in una fase a gironi di una competizione europea e di quella stagione 2010-2011 indimenticabile il gol di Maggio al 95esimo minuto contro il Palermo gol dell'1-0 che ci regalò la vittoria davvero indimenticabile quel gol su assist di Cavani e in quella stagione Maggio inoltre fece anche un assist a Cavani per il gol del 2-0 contro la Juve partita che vincemmo per 3-0 ricordiamo con quella famosa tripletta di Cavani e in quella stessa stagione segna anche a Torino contro la Juve all'ultima giornata di campionato e ricordiamo che quella fu la stagione della qualificazione diretta alla Champions League del Napoli dopo 21 anni stagione che concludemmo al terzo posto e Maggio fu senza alcun dubbio tra i protagonisti assoluti poi la stagione successiva esordisce ovviamente anche in Champions con il Napoli fu protagonista del passaggio agli ottavi di finale segnò anche un gol al San Paolo contro il Bayern Monaco e fece un assist per il gol di Cavani contro il Manchester City e in quella stagione Maggio vinse anche il suo primo trofeo in maglia azzurra ovvero la quarta Coppa Italia della storia del Napoli vinta in finale contro la Juve vittoria come tutti ricordiamo per 2-0 mentre poi la stagione successiva anche ovviamente la gioca da titolare ed anche quella diciamo è una stagione tra le più importanti per Christian Maggio il Napoli che conclude quella stagione al secondo posto e quella come tutti ricordiamo fu l'ultimo anno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra che quindi lasciò così un Napoli che si qualificò per la seconda volta negli ultimi tre anni alla fase a gironi di Champions League ma come seconda in classifica mentre l'altra volta finimmo terzi e Mazzarri senza alcun dubbio è stato l'allenatore con il quale Christian Maggio ha avuto il miglior rapporto ha avuto sia il miglior rapporto e allo stesso tempo è stato anche l'allenatore con il quale è riuscito ad esprimersi al meglio e a fornire le sue migliori prestazioni e ricordiamo che Walter Mazzarri aveva avuto Christian Maggio già ai tempi della Sampdoria poi arriva Benitez e quindi Maggio comincia a fare il terzino destro e quindi a segnare meno gol rispetto a quanti ne segnava prima perché con Mazzarri visto che giocava come esterno di centrocampo ha segnato un bel po' di gol mentre ovviamente poi giocando in difesa come terzino destro da lì in poi ne segnò di meno comunque le due stagioni con Benitez le gioca da titolare vince altri due trofei con la maglia azzurra ovvero la quinta Coppa Italia della storia del Napoli vinta contro la Fiorentina per 3 a 1 e poi l'anno dopo l'indimenticabile Supercoppa vinta a Doha contro la Juve ai calci di rigore entrambe i finali che ha giocato da titolare mentre poi come tutti sappiamo la stagione successiva diciamo all'addio di Benitez arriva scusate un attimo arriva Maurizio Sarri ricordiamo che quella stagione si concluse con la mancata qualificazione del Napoli alla Champions League e maggio con Sarri comincia a giocare titolare sempre come terzino destro con poi Isai che giocava a sinistra ricordiamo che Maurizio Sarri cominciò con il 4-3-1-2 però poi dopo tre giornate che i risultati non furono proprio dei migliori ci fu la famosa svolta in quel Napoli Bruges 5-0 di Europa League dove fu messo Isai in difesa Isai a destra e Goulam a sinistra in un 4-3-3 e così fu poi anche nelle partite successive da lì nacque il grande Napoli di Sarri il grande gioco del Napoli di Sarri e quindi da lì in poi maggio perse il posto da titolare e i titolari restarono definitivamente Isai a destra con Goulam a sinistra e maggio poi come abbiamo detto in questi tre anni ha trovato poco spazio però delle partite importanti le ha pur giocate per esempio partite di Champions League quelle nell'ultima stagione con Feyenoord e Shakhtar Donetsk l'ultima partita giocata è stata quella a San Siro contro il Milan lo 0 a 0 di questa stagione e comunque secondo me poteva trovare più spazio perché comunque ha dimostrato un'ottima condizione fisica quando ha avuto la possibilità di giocare dal primo minuto e quindi davvero grazie di tutto Christian maggio è stata davvero una grandissima bandiera azzurra ed era diciamo il calciatore che vestiva da più tempo la maglia azzurra dopo il capitano Marek Kamsik e poi come tutti sappiamo lo scorso 20 maggio prima della partita Napoli Crotone è andato sotto la curva gli ultras che gli hanno anche dedicato una lettera davvero una bellissima immagine dove lui è rimasto anche commosso e poi non si è capito se il suo non entrare in campo in Napoli Crotone sia stata una scelta sua o una scelta di Sarri perché davvero siamo rimasti tutti sorpresi dal fatto che non sia entrato contro il Crotone per vestire l'ultima volta la maglia azzurra se la scelta è stata di Sarri di non farlo entrare è stata sicuramente l'errore più grande fatto da Sarri nei tre anni di Napoli perché Maggio poi veniva inquadrato più volte durante la partita seduto in panchina ad un passo dalle lacrime quindi non sappiamo la scelta di non farlo entrare di chi sia stata comunque ragazzi detto questo io vi saluto buona fortuna a Cristian Maggio magari un domani potesse ritornare a Napoli in vesti da dirigente quindi ragazzi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza Napoli